Mia sorella ha appena finito l'operazione Martina? 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 Oddio ragazzi non si sveglia non vorrei pensare al peggio Martina? Mi chiamano il dottore Dottore! Dottore! Mia sorella non si sveglia Eh, è stata anestesia Ah, è stata anestesia Sì, sì Eh no, ma infatti volevo dire cioè comunque è buona questa anestesia perché è form Eh, sì, sì